La finanza in soldoni di Massimo Famularo Episodio 12 Le meraviglie dello Stato aviatore La storia e le storie di tutti i miliardi bruciati per tenere in vita l'Italia contro ogni logica e buonsenso dovrebbero essere ormai note anche ai sassi della strada Per chi avesse ancora dubbi o non fosse sufficientemente aggiornato sul tema suggerisco di cercare su Google Andrea più giuricine più all'Italia per trovare articoli, video e approfondimenti sul tema che questo balido economista e mio amico ha dedicato alla questione In particolare suggerisco il pezzo recente su politico.iu dove la travagliata e costosa relazione del governo italiano con la compagnia di bandiera viene riepilogata raccontando i sei piani di salvataggio falliti negli ultimi 12 anni con l'impiego di circa 10 miliardi di euro in salvataggi e prestiti fino alla recente proposta di rinazionalizzare la società con l'impiego di ulteriori 3 miliardi a spese dei contribuenti Cos'altro aggiungere a una storia che ha i toni di una farsa e i costi di una tragedia? Se volete c'è anche un video con Andrea Giuricin sul mio canale YouTube Ebbene, gli articoli 198 e 203 del decreto rilancio stabiliscono una nuova frontiera sia nel sostegno alla compagnia di bandiera che negli oneri a carico di tutti i cittadini Penalizzare i concorrenti all'Italia al punto da indurli a minacciare di lasciare il paese con grave pregiudizio delle regioni come la Sicilia nelle quali il traffico aereo è in larga misura operato da vettori low cost In particolare, i due articoli menzionati stabiliscono che l'applicazione ai dipendenti propri ed i terzi di trattamenti retributivi non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore costituiscano un presupposto necessario per mantenere l'operatività nel nostro paese e per accedere al fondo di compensazione ai danni del settore aereo Se in apparenza le due norme sembrano voler tutelare i lavoratori il mantenimento di standard minimi di trattamento economico il diavolo si annida nei dettagli come spiegato anche da Lidia Baratta sull'inchiesta Ad oggi, le compagnie che operano con licenza italiana di fatto sono solo tre Alitalia, Neos e Erdolomiti e il contratto collettivo nazionale del settore non è altro che il contratto negoziato e sottoscritto nel 2014 da Assa Aereo per Alitalia che non è, inutile dirlo, quello applicato dalle low cost che hanno stipulato invece ciascuna contratti aziendali differenti Il contratto nazionale di fatto non esiste Assa Aereo ha un solo iscritto, cioè Alitalia e quel contratto riflette un modello di business che non può essere applicato alle low cost Inoltre è opportuno specificare, come rivendicato dalla neonata Associazione Italiana Compagnia Aerea Low Fairs, Eilcalf che Blue Air, EasyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea e Welling applicano tutti i contratti di lavoro di diritto italiano al proprio personale di volo e la maggior parte ha stipulato contratti collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle compagnie, pagando tasse sul reddito e contributi in Italia Insomma, dietro la foglia di fico di voler riconoscere condizioni migliori ai dipendenti delle compagnie low cost si vorrebbe di fatto imporre delle condizioni anti-economiche per i concorrenti di Alitalia con il risultato finale di assestare il colpo di grazia ai settori del trasporto aereo, del turismo e più in generale delle attività ricettive che stanno già vivendo una crisi senza precedenti Per fortuna dei passeggeri e dei contribuenti le compagnie oggetto di trattamento discriminatorio sono intenzionate a far sentire la propria voce Michael O'Leary, CEO di Ryanair ha dichiarato che Alitalia continua a ricevere e dilapidare miliardi di euro in aiuti statali senza generare alcun profitto Quest'ultimo tentativo del governo di cui fa parte il ministro De Micheli di imporre i costi di Alitalia ad altre compagnie aeree e aeroporti in Italia è destinato a fallire poiché viola le regole della concorrenza europea e causerà la perida di posti di lavoro in Italia Trovate questo comunicato stampa sul sito di Ryanair o nel post con il testo di questo podcast e il testo si conclude dicendo sempre per O'Leary invitiamo il ministro De Micheli a modificare le misure sul trasporto aereo previste dal decreto e di garantire che le condizioni di Alitalia che ha perso denaro ogni anno per 75 anni non vengono imposte ad altre compagnie aeree efficienti in Italia e che non vengano aumentate le addizionali comunali già utilizzate dal governo italiano per costringere i competitor di Alitalia a sovvenzionare gli alti costi pensionistici della compagnia Pertanto, se tenere in vita l'Italia è un male fin troppo noto con conseguenze per le finanze pubbliche dello stato salvatore e per quelle private dei passeggeri costretti a pagare un prezzo più elevato per i biglietti cercare di azzoppare i suoi concorrenti è una diabolica innovazione con un potenziale distruttivo che si estende a rilevanti segmenti del sistema economico ben al di là del solo trasporto aereo A questo proposito potete leggere anche la cultura del torcicollo su Econopoli o nel ultimo podcast L'illusione fatale dei governanti convinti di poter regolare la vita dei propri sudditi in ogni aspetto particolare prescrivendo chi debba comprare cosa e a quale prezzo si scontra con la realtà sconveniente di un mondo globalizzato e dall'appartenenza dell'Italia all'unione economica e monetaria sistema nel quale vigono ancora regole in favore della concorrenza e a limitazione degli aiuti di stato sebbene l'emergenza sanitaria abbia temporaneamente indebolito questa normativa La monale di questa triste favola è che ancora una volta la miopia di una classe politica attenta più al consenso di breve termine che al benessere dei suoi cittadini rischia di danneggiare in modo permanente l'economia del paese e di renderci tutti più poveri e meno liberi con il passare del tempo Avete ascoltato la finanza in soldoni di Massimo Famularo Trovate i miei aggiornamenti anche sul canale YouTube o seguendo il mio account Twitter Se vi piacciono questi post potete offrirmi un caffè cliccando sulla tazzina con il cuore che trovate al link di descrizione del podcast oppure abbonandovi al mio account Patreon da 2 euro al mese I fondi saranno utilizzati per pagare abbonamenti a stampa italiana e straniera per l'attività di debunking, traduzione e commento o anche una newsletter